Buongiorno a tutti i miei amici e amiche, bentornati, nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato a Maria di Magdano, negli scritti di Maria Valtorta. Questo avvincente, un avviso molto bello e istruttivo, ciclo di catechesi che ci mostra questa straordinaria figura di donna veramente bella, una delle non troppo numerosissime attestazioni ed esemplari di donna che davvero nobilita oltremodo il genere femminile. Ovviamente la più grande e frutturante delle donne sappiamo bene chi è, ma non per niente Maria di Magdano era tra le protagoniste di coloro che accompagnarono Gesù al termine della sua vita, stentori ai piedi della croce, come vedremo a suo tempo, è come sappiamo la prima, dopo Maria, di essere testimone della sua resurrezione. Ora, ci siamo fermati la volta scorsa con Maria di Magdala tornata vergine nello spirito a Magdala, quindi l'affrontare da convertita, la realtà di peccato dove era vissuta, con tutte quante le conseguenze. Il paragrafo seguente si chiama Tiberiade, un romano sul suo esempio a sete di verità. Già il titolo è emblematico, adesso lo andremo a vedere, ma vuol dire che c'è un uomo, quindi un pagano, il paragrafo di questo capitolo è molto lungo, non è scuso che ci porti per tutta la puntata. Vedete, cosa succede quando qualcuno si converte, che ha frequentato ambienti certamente peccaminosi, l'effetto ordinario almeno in parte è l'effetto domino, quindi si porta dietro qualcun altro, magari non tanti, ma qualcuno spesso sì, soprattutto quando si tratta di conversione autentica, perché è vero che la maggioranza, quando si si trova dinanzi a un fenomeno di questo genere, cerca di denigrare, diciamo così, o di ragionare le cose, lavaggio del cervello, è diventato bigotto, questo, questo e quell'altro, però c'è una minoranza che ragiona, si fa, come dire, interrogare, si lascia interrogare da quegli eventi e si avvicina. Il paragrafo che andiamo a leggere e a commentare adesso è di questo tenore. Quando la barca si ferma nel porticciolo di Tiberiade, accorrono a vedere chi giunge alcuni sfaccendati che passeggiavano presso il moletto. Vi sono persone di ogni ceto e di ogni nazionalità, Perciò le lunghe vesti ebraiche di tutti i colori, le zazzere e le barbe imponenti degli israeliti, si mescolano alle vesti di lana candida più corte e sbracciate e ai visi glabri dai capelli corti dei romani robusti e a quelle ancora più ridotte che coprono i corpi snelli ed effemminati dei greci, che sembra abbiano assimilato fin nelle pose l'arte della loro nazione lontana, come statue di dèi scese sulla terra in corpi di uomini avvolti in tuniche molli, volti classici sotto chiome arricciate e profumate, braccia cariche di braccialetti che scintillano nelle movenze studiate. Molte donne di piacere sono mescolate a questi due ultimi generi di persone perché i romani e gli elleni non si peritano di esporrene i loro amori sulle piazze e per le vie, mentre i palestinesi se ne astengono, salvo poi praticare allegramente il libero amore con donne di piacere dentro le loro case. questa non nota, un pochino tagliente, però troppo vera di Maria Valtorta. Ciò appare nettamente perché le cortigiane, nonostante gli occhiacci che fanno loro gli interpellati, chiamano familiarmente per nome diversi ebrei, fra i quali non manca un infiocchettato fariseo. Abbiamo capito un po', no? C'è un po' di gradevole ironia da parte di Maria Valtorta verso queste situazioni. Gesù si dirige verso la città proprio laddove la folla più elegante si era di una più fitta. La folla elegante, ossia romana e greca per lo più, con qualche pizzico di cortigiane di Erode e di altri che credono ricchi mercanti della costa fenicia, verso Sidone e Tiro, perché parlano di quelle città e di empori e navi. Le terme hanno i portici esterni, pieni di questa folla elegante e oziosa, che perde così il suo tempo discutendo su argomenti molto piccini, quali il favorito di Scobolo o l'atleta più agile e armonico nella lotta greco-rumana. Oppure ci caliggiano di mode e di banchetti e prendono appuntamenti per gite allegre andando ad invitare le più belle cortigiane o le dame che escono profumate ed arricciate dalle terme o dai palazzi riversandosi in questo centro di Tiberia di marmoreo artistico come un salone. Qui c'è un saggio delle descrizioni veramente esemplari di Maria Valtorta, di questa sua straordinaria capacità narrativa, che certamente è un talento naturale che il Signore gli ha dato, perché la sua vita, cioè Maria Valtorta, è nata sul pianeta Terra per scrivere queste cose, questo penso che non è tanto difficile capirlo. no, quindi faccio questa piccola notazione perché, come dice il buon e grande San Tommaso d'Aquino, domani è la festa del suo grande maestro e precettore San Alberto Magno, il Signore dà sempre le attrezzature di natura e di grazia sufficienti per compiere la missione che ci ha affidato. Maria Valtorta ha potuto scrivere quello che ha scritto perché ha questi talenti straordinari proprio nell'arte dello scrivere. Naturalmente il passaggio del gruppo suscita curiosità intensa e questa diventa addirittura morbosa quando vi è chi riconosce Gesù per averlo visto a Cesarea e vi è chi riconosce la Maddalena per quanto proceda tutta mantellata e col velo bianco molto calato sulla fronte e sulle guanci. Di modo che per essere così velata e a Capochino per giunta ben poco del suo viso si vede. È il Nazareno che ha guarito la bambina di Valeria, dice un romano. Mi piacerebbe vedere un miracolo, gli risponde un altro romano. Io lo vorrei sentire parlare, dicono che è un gran filosofo. Gli diciamo che parli? Chiede un greco. Non te ne picciare Teodate, predica nuvole. Sarebbe piaciuto al tragedo per una satira, risponde un altro greco. Non inquietarti Aristopulo, pare che ora scenda dalle nuvole e vada al solido. Vedi che ha scorta di femmine giovani e belle? Scherza un romano. Ma quella è Maria di Magdala, urla un greco e poi chiama Lucio, Cornelio, Tito. Ma guardate là, Maria. Ma non è lei. Maria così. Ma sei ebro. È lei, ti dico, non posso ingarnarmi anche se è così mascherata. Romani e greci si affollano verso il gruppo apostolico che taglia per sbieco la piazza, piena di portici e fontane. Anche donne si uniscono a questi curiosi ed è proprio una donna che va quasi sotto il volto di Maria per vederla meglio e resta di sasso vedendo che è proprio lei. Chiede. Ma che fai in questa guisa? E ride di scherno. Adesso attenzione. Cominciano ad esserci le prime botte da Maria di Magdala, proprio quelle cose che io quando le leggo vado invisibilio. Maria si ferma, si raddrizza, alza una mano e si scopre il volto gettando indietro il velo. È la Maria di Magdala signora potente su tutto ciò che è spregevole e padrona, già padrona delle sue impressioni che appare. Sono io, sì, dice con la sua splendida voce e con dei lampi negli occhi bellissimi. Sono io e mi disvelo perché non abbiate a pensare che mi vergogno di essere con questi santi. Oh, oh, Maria coi santi. Ma vieni via, non a venire te stessa, dice la donna. A verità fui fino ad ora, adesso non più. Ma sei folle, avevo un altro capriccio, dice. Un romano dice scherzando e ammiccando con gli occhi, vieni con me, ma sono più bello e più allegro di quella prefica, quei baffi che mortifica la vita e ne fa un funerale. Bella è la vita, un trionfo, un orgio di gioia, vieni, io saprò superare tutti per farti felice, dice un giovane brunetto dal volto colpino, pur essendo bello, e fa per toccarla. Indietro, non mi toccare. Hai detto bene, la vita che voi fate è un orgio, è delle più vergognose. Ne ho nausea. Oh, oh, fino a poco fa però era la tua vita, risponde il greco. Ora fa la vergine, ghigna un erodiano. Tu rovini i santi, il tuo nazareno perderà l'aureola con te. Vieni con noi, insisto un romano. Venite voi con me, dietro a lui, e cessate di essere animali, e divenite almeno uomini. Un coro di risate e di beffere risponde. Sono un vecchio romano, dice, rispettate una donna, è libera di fare ciò che vuole, io la difendo. Il demagogo, sentilo. Ti ha fatto male il vino di ieri sera? Chiede un giovane. No, è ipocondriaco, perché gli due la schiena. Gli risponde un altro. Vai dal nazareno che te la gratti. Vado perché mi gratti il fango che ho preso in contatto con voi, risponde l'anziano. Oh, crispo che si è corrotto a 60 anni. Ridono in molti facendogli cerchio intorno. Ma l'uomo, detto crispo, non si preoccupa di essere beffato e si dà a camminare dietro la maddalena, che raggiunge il maestro messosi all'ombra di un edificio bellissimo che si estende in forma di esedra su due lati di una piazza. E Gesù è già alle prese con lo scriba, che lo rimprovera di essere in Tiberiade e con quella compagnia. Faccio un attimo, un pit stop, perché ci fermiamo un attimo su qualcosa e riprendo un po' di fiato, perché la lettura è sempre abbastanza impegnativa, no? Allora, detto che dopo la grande descrizione di Maria Val Torta appare il contesto. E qui c'è il primo grande atto, gli psicologi forse perché avrebbero l'atto di esistenza, ecco, di Maria Di Magdala. Provocata, sfidata in un certo senso, sfidata nel senso di fatto oggetto di scherni, di motteggi, come abbiamo sentito, ci dà, abbiamo visto un ottimo esempio, un'ottima traccia di come si deve fare in queste circostanze. Gesù ha detto, guai a voi, a chi si vergognerà di me e delle mie parole, perché anche il padre mio si vergognerà di lui. Maria Di Magdala procedeva in quel modo in cui procedeva non certo per paura di farsi riconoscere, ma perché aveva appunto assunto un tipo di look, diciamo così, anche esteriore, di perso dal precedente. Le donne sante a quei tempi andavano vestite molto modestamente e rigorosamente con il capo operato, non solo in chiesa, come oggi neanche lì fanno, ma anche fuori. E quindi era vestita in questo modo. Però, quando c'è l'episodio di questa impudica che le si mette vicino e la riconosce, si mette a stuzzicarla, a dire che fai in questa guisa, deridendola, allora c'è l'atto di esistenza. Si toglie il vero e dice, guardate, sono io e non c'ho niente di cui vergognarmi, di essere con i santi. Allora, capite, no? Questo è il contrario del peccato del rispetto umano. I figli di Dio e i cristiani non sono mai timidi. Anzi, non è che fanno i superbi o che vogliono ostentare, no? Però, in certe circostanze, mostrarsi, per quello che siamo, senza paura, specialmente in ambienti dove potrebbero prenderci in giro, è una cosa importante. Allora, è come sempre, facciamo un pochino di esempi. Posso cominciare da me, o da delle cose che riguardano il mio mondo, per poi estenderlo agli altri mondi. Domanda, vi faccio una piccola domanda a chi segue le dirette. C'è molta gente che si lamenta perché i sacerdoti non vanno vestiti da sacerdoti. Ma qualcuno, mi siete mai chiesto come, ma, perché? Mi racconta un episodio che fa un po' sorridere, riguarda la mia vita. Una volta mi recai in una cittadina dell'Umbria, non faccio il nome per recarmi, in un importante centro religioso, chiamiamolo così. Potrebbe essere una chiesa, un posto dove a essere portato un santo, una santa, eccetera. Diciamo questo. A un certo punto, passeggiavo, l'Umbria è spettacolare. Tutti questi paesini, tanto uno dovunque va, tutti questi paesini proprio dall'aspetto caratteristico, proprio medievale al 100%. Io allora non stavo a Sermoneta, quindi è successo diversi anni fa. Adesso mi sono un pochino abituato. Grazie a Dio a quest'aria bella, ecco, di paese, di borghetto medievale. A un certo punto ti vedo che c'era un negozio che mi pare che fosse una panetteria. Passo lì davanti, io l'avevo vestito come l'avevo vestito sempre. Era d'inverno, quindi c'avevo la tavare e forse c'avevo pure il mantello addosso, quindi era abbastanza, abbastanza, diciamo, appariscente. Ti vedo una persona che esce da sta panetteria, mi guarda, dopodiché torna dentro e dopo escono in due e in due, e prima parlo attorno un po', mi guardano con due occhi come se sono questo marziano. e guarda, non ricordo se fosse ieri, no? Mi fa scusi, ma è da dove viene? Guardate, vengo da Latina, ma viene da Latina. Lo sa che le dico? Io ho quasi 40 anni, 50 anni, mi ricordo, mi ha detto, è la prima volta che vedo un prete vestito da prete. ho fatto la E stretta perché parlo così, un prete vestito da prete, la prima volta. E' rimasto sconvolto. Vi racconto un altro aneddoto che mi disse un che mi disse un confratello adesso ho passato a miglior vita e anche qui, siccome non siamo in tantissimi nel presbiterio a portare la veste talare, anche qui diciamo che uso un eufemismo perché vabbè, e a un certo punto questo confratello che era un era un bravo sacerdote per quanto mi riguarda, io non voglio assolutamente giudicare nessuno dei miei confratelli, una volta mi andò a dire e mi fa tu porti sempre la veste io d'ammiro, io me la sono tolta Don Leonardo un bel po' di tempo fa ma lo sai che successe? Nei tempi del postconcilio così stavo in macchina con degli amici e avevo la veste e c'evo anche il Saturno in testa questi mi hanno preso mi hanno tolto il Saturno e me l'hanno buttato dal finestrino della macchina ma che ho ancora in giro con queste cose ma non te vedi allo specchio non te vedi ma sei di Dio ma butta sta roba ma che è qua il Saturno te l'abbiamo buttato noi ma chiaramente quando torni a casa te la togli sta veste no? ti metterai almeno un clergyman non normale mica mica vorrei andare a fare questa roba ma ancora in giro e sto sacerdote poverino vedendo me mi era tornata in mente questa cosa e si vedeva che soffriva per aver ceduto come dire alla pressione del motteggio dipendente dal fatto che comunque sia essendo anche se c'era questo famoso postconcilio essendo una persona molto anziana ho detto che adesso è morto quindi avendo cominciato a fare il sacerdote da prima dei tempi della pazia si era mantenuto la veste e anche gli accessori della veste perché il cosiddetto Saturno cappello romano un tempo era proprio obbligatorio se tu uscivi te lo dovevi mettere in testa capite la forza cioè provate a pensare che ascolti queste catechesi pensi alle cose che fa o che non fa per paura di essere preso in giro specialmente per quanto riguarda le cose religiose guarda che c'è gente che non si inginocchia in chiesa per paura di essere preso in giro specialmente gli uomini che ti pare che io mi inginocchio ma per carità se poi c'è qualcuno specialmente nel paesello che ti vede già che sei andato a messa che sei pure inginocchiato ti fanno un cappottone che ti dura almeno due mesi se tutto va bene ok mi trovo in un ambiente pubblico sto a mensa devo mangiare sono un operaio un dipendente mangio a mensa lo faccio a meno signora della croce o mi vergogno sto in autobus mi viene diciamo in rosario che fai non mi ricordo una volta io in rosario lo dico però o conto a mente o conto con le dita perché prende la corona in mano e dopo chi mi vede chi lo sa che pensano che pensano ma la corona in mano la degli uomini che prende quando stai in autobus perché devono pensare perché devono vedere che c'è ancora qualcuno che dice rosario che non si vergogna di tenere la corona in mano mica c'è in serpente le direbbe San Luigi Maria Confort che chiede le sue opere non c'è una serpe in mano se prendi la corona del rosario no? va bene e tante altre piccole cose la regola è che quando si tratta del Signore non dobbiamo mai fare o non fare una cosa per porre di essere presi in giro e su questo dobbiamo fare un attento esame di coscienza se una cosa io per esempio magari per prudenza la ritengo in un certo momento non opportuna però attenzione a scambiare la prudenza con rispetto umano ci può anche stare ma se io non faccio una cosa che magari anche tanto desidererei per paura di essere preso in giro ricordiamo il Vangelo ricordiamo Maria di Magdala e ricordiamo il Vangelo chi si vergognerà di mettere le mie parole io mi vergognerò di lui quando davanti al Padre mio il rispetto umano e non solo poi il coraggio noi non dobbiamo avere i complessi guardate che oggi la Chiesa la Chiesa no io non parliamo mai di Chiesa alcuni uomini di Chiesa perché la Chiesa non ha assolutamente quello che sono un po' complessati sono cioè complessati nel senso che si sentono inferiori di meno hai rispetto ai mondani illuminati capito che loro sono persone intelligenti i cultori dei diritti del rispetto allora lui deve essere come loro e quindi se loro tollerano e rispettano certe cose perché succedono certe cose dentro la Chiesa per questo motivo perché verrà per paura che dopo che succede e che dopo ti mandano sul giornale perché se tu oggi c'è un atteggiamento politicamente scorretto vai sul giornale vai un vescovo che per esempio dinanzi ad alcune cose alza la voce prende posizione o fa una cosa va sul giornale sicuro al 100% ve lo dico io ve lo dico io sono stato sul giornale tanti anni fa l'ho detto recentemente per Halloween titolo in prima pagina era un giornaletto come dire locale non era testata nazionale che si scomodano per Don Leonardo però insomma prima pagina o a tutta pagina c'è il suo non chiusore è ancora conservata la copia di Don Leonardo va del retro Halloween st'Halloween a me questo Halloween c'è una marea dei commedie che non finivano mai vai sul giornale vai c'è paura di andare sul giornale c'è paura ah ma l'indiana visto che fanno quando la prendono in giro ehi che fai sì la vostra la vostra vita onorgia io l'ho fatta fino a qualche giorno fa adesso non la faccio più e lei non è che si lascia intimidire sì non la faccio più ero una bestia siccome ci siete anche voi provate a venire con me per diventare almeno uomini necessario di essere bestie glielo dice perché non è che se uno ha commesso dei peccati cioè ha commesso dei peccati si è pentito e quindi al peccatore gliele può dire e non deve dire ma l'hai fatto pure tu e l'ho fatto pure io e vabbè e mi sono sbagliato mi sono sbagliato quindi affrontare queste situazioni no questo è proprio questa è la è la quintessenza della personalità di Mary Magda poi c'è da notare anche il romano alternativo perché qui ci sta la sindrome del branco la sindrome del gruppo quanta gente andate in giro su youtube dei video assai guardate che la sindrome del branco cioè adeguare i propri comportamenti alla massa è tipico è tipico io per esempio fin da quando ero piccino stasera sto parlando un po' troppo di me mi sto già accorgendo però sono sempre stato proprio allergico cioè se una cosa cioè la fa la massa a me già quella cosa già di per sé già mi sta antipatica subito cioè il doversi adeguare perché lo fanno tutti a me per principio già mi sta antipatica è una cosa buona eh se è una cosa buona poi la devi fare ma mi urta che lo fanno tutti e mi urta la motivazione di doverti per forza allineare perché questa cosa che porta a delle scene no questi stanno facendo soggetta quella povera madre di Magdala che ha fatto delle scelte di vita significative perché stanno facendo così come fanno tutti quanti gli empi no e dinanzi al giusto reagiscono in questo modo oh però c'è uno che va fuori dal coro il romano dice lasciatela perde lasciatela perde io mi sono corrotto appresa a voi se sono solo un vecchio romano io a live di fare ciò che vuole io la difendo vado perché mi gratti il fango che ho preso in contatto con voi allora qui sembrano sentire le parole di di San Paolo no voi non avete ricevuto uno spirito di timidezza ma di forza di amore e di saggezza non vergognatevi della testimonianza da rendere al Vangelo oggi meno che mai Giovanni Paolo II mi ricordo quando ero giovanotto invitava le giornate della gioventù dicendo non è tempo di vergognarsi del Vangelo è tempo di praticarlo dai detti oggi questa cosa qui vale cento volte tanto noi non ci vergogniamo del Vangelo noi non siamo noi non ci abbiamo complessi verso nessuno ci considerano retrogradi ci considerano non al passo con i tempi ma leggete le rivelazioni della Madonna Fatima una Madonna Fatima ha detto che la chiesa non ha mode cioè Gesù Cristo è sempre lo stesso non ci sono mode d'accordo o come dire cambi di direzione che siano influenzati dal cambiamento dei tempi è chiaro che ci sono delle cose come dire esteriori accidentali che è chiaro che vanno al passo con possono andare al passo devono andare al passo con i tempi no? pensate se io tanto stasera ormai stiamo facendo l'espluat io io facessi come il santo curato d'Arts che per fare il santo la sera adesso che fa buio presto esco e me ne vado in chiesa mi prendo la lampada a petrolio e vado in chiesa con la lampada a petrolio sarebbe una cosa fatta bene no oggi restano le lampadine accendo le lampadine d'accordo si possono accendere con lo smartphone tra l'altro la lampadine no? quindi e se si possono accendere con lo smartphone accendiamo con lo smartphone non succede niente non succede ecco però non posso andare in chiesa a dire che che Gesù Cristo non è morto in croce per i nostri peccati ma non è mai stato la statua lui era era un rivoluzionario voleva difendere i poveri quindi l'hanno ammazzato no? cioè quello 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 che diceva il santo grado d'Arts che uscita con la lampada a petrolio è lo stesso che dovrebbe dire comunque parroco di oggi no? bene scusate se mi sono un pochino soffermato però questo mio avviso era un punto da notare allora e quindi questo qua intanto Gesù comincia a litigare con lo scriba comincia a litigare con lo scriba comincia ad attaccare Gesù e tu perché vi sei? questo per essere a Tiberiadi e anche ti dico che pure a Tiberiadi anzi più qui che altrove vi sono anime da salvare gli risponde Gesù non sono salvabili sono gentili pagani e peccatori e Gesù risponde ma io per i peccatori sono venuto per far conoscere Dio vero a tutti anche per te sono venuto e sentite la risposta del fariseo non del fariseo questo era uno scriba ah gli scribi erano gli antichi teologi ci sono anche moderni teologi per me c'è venuto ah ma io non ho bisogno di maestri né di redentori io sono puro e dotto e Gesù gli risponde almeno lo fossi tanto da conoscere il tuo stato bella risposta ma questo anziché rientrare in sé continua a rispondere e tu da sapere quanto ti pregiudichi con la compagnia di una meretrice e Gesù gli risponde ti perdono anche in suo nome ella nella sua miltà nulla è il suo peccato tu per la tua superbia raddoppi le tue colpe e sentite che risponde non ho colpe hai la capitale sei senza amore lo scriba dice raka attenzione raka ci ho fatto qualche predica a suo tempo e volge le spalle raka significa pazzo fuori di testa in ebraico bellissimo questo dialogo è bellissimo anche quello che Gesù dice si capisce dal contesto questo è un dialogo che inizia che lo scrivere stava dicendo che fai sei venuto da Tiberiade ma lo sai qui chi c'è Tiberiade era Tiberiade tanto per capire era che ne so Ibiza Palma di Mallorca che ne so Tenerife oppure Porto Rotondo in Sardegna che ne so Monte Carlo ecco cioè era un po' Tiberiade dal nome appunto dell'imperatore Tiberio era appunto questa cittadina romana costruita lì era una sul lago di Galilea quindi questo posto ameno che raccoglieva appunto la gente che c'era quindi romani greci in maggioranza oppure ricastri un po' corrotti ma ebrei non è certamente un posto da educande diciamo così no ma Gesù dice io io appunto prima anche tu stai qui e poi più che altro io sono anime da salvare e questo comincia a dire non sono salvabili chi siamo uno per decidere chi sono salvabili oppure no sappiamo che ci sono alcune anime sappiamo che Dio conosce bene nella sua prescienza quali sono le anime che purtroppo non serviranno ma noi no non possiamo fare noi dobbiamo pensare dobbiamo offrire la possibilità di entrare in contatto con la salvezza a tutti che ne sappiamo chi è il non salvabile questa c'era l'antica arroganza giudaica no ebraica noi siamo i puri io sono puro e che dice e dotto e quindi io non ho peccati e non ha peccati e vabbè e Gesù però gliele canta non ho sono pure dotto almeno lo fossi tanto da conoscere il tuo stato e la dice bella quando gli dice secondo me me la dice ti perdono anche il suo nome è la grande frase ella nella sua umiltà annulla il suo peccato tu per la tua superbia raddoppi le tue colpe stiamo lontani come dalla peste bubonica questo è un superbo di prima categoria giudica Gesù Cristo il superato giudica le persone come non salvabili si reputa senza peccato giudica quello che sta facendo il nostro signore e non si rende conto di avere la capitale essere senza amore e a questo punto interviene Maria di Magdala riprendono la lettura per mia colpa maestro dice la Magdalena e vedendo il pallore di Maria Vergine certamente non era contenta di vedere queste scenette geme perdonami io faccio insultare tuo figlio mi ritirerò no tu resti dove sei lo voglio io dice Gesù con voce incisiva e un balenare negli occhi un che di domino in tutta la sua persona che lo fa quasi inguardabile avete sentito il nostro signore e poi più dolcemente tu resti dove sei e se qualcuno non sopporta la tua vicinanza questo qualcuno se ne va lui soltanto bello eh quindi anche 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 Gesù qualche momento non facciamo troppe immaginette un po' troppo perché Gesù è Gesù Gesù è Dio al fariseo gliel'ha cantato gliel'ha cantato con tanto amore ma gliel'ha cantato e qui dinanzi alla mortificazione di questa di questa peccatrice sinceramente convertita dice tu non vai da nessuna parte se c'è qualcuno che ha qualche problema se ne va lui quindi sempre lo sfondo del che si dice che dicono ma se da che ce ne importa quello che dicono allora e adesso veniamo alla parte un po' centrale di oggi maestro chiama il romano corpulento e vecchiotto che ha difeso la mandalena Gesù si volge ti chiamano maestro e io pure ti chiamo così desideravo sentirti parlare sono mezzo filosofo mezzo caudente ma forse tu potresti fare di me un mestuomo Gesù lo guarda fisso e dice io lascio la città dove regna la bassezza dell'animalità umana ed è sovrano lo schermo e riprende a camminare la risposta di Gesù vi premetto che questa è la risposta simile a quella che diede alla donna cananea quindi comincia a vedere a provocare a vedere quanto il desiderio di conversione di quest'uomo sia sincero l'uomo dietro sudando e faticando perché il pasto di Gesù è sollecito e lui è grosso e vecchietto ha pesantito anche dai vizi quindi Pietro che si volta in dietro ne avverte Gesù e se Gesù che risponde lascialo camminare non te ne occupare Pietro gli ha detto gli ha detto senti c'è stato voraccio che ci sta venendo dietro ti ha chiesto che vuole sentire qualcosa questo si legge in piedi gli sta venendo il fiadone lascialo camminare dopo poco è l'iscariota che dice ma quell'uomo ci segue non va bene e perché? per pietà o per altro motivo? pietà di lui no perché più in distanza ci segue lo scriva di prima con altri giudei e lasciali fare ma era meglio se avevi pietà di lui che di te di te maestro no no dice Gesù di te Giuda si schietto nel capire i tuoi sentimenti e nel confessarli guardate questo è spettacolare io veramente ho pietà anche del vecchio si fatica sai a starti dietro dice Pietro che suda sentite un po' a seguire la perfezione si fatica sempre Simone l'uomo li segue instancabile cercando di stare vicino alle donne alle quali però non rivolge mai la parola tocca fare un altro pit stop lascialo camminare e vedete come Gesù aiuta Giuda perché cosa era preoccupato Giuda non perché stava andassi dietro il romano ma perché dietro il romano c'era il fariseo che dice ah ora vediamo se accoglie pure il romano quindi altre rogne ma attenzione attenzione Giuda si vergognava di questo quindi non parla né per amore del romano né per amore di Gesù ma parla per amore di sé perché questo è una cosa tipica di Giuda lui voleva stare lì in mezzo però poi c'era ancora conservato tutti gli amici farisei importanti che vedendo certe scenette poi lo distruggeva lo prendevano in giro e questo lui non voleva poi c'era la frase mitica a Pietro a seguire la perfezione si fatica sempre vivere da cristiani e farsi santi è bello amici cari però se fosse non faticoso saremmo tutti santi se invece santi sono sempre un po' così un pochino in minoranza è perché a santificarsi tende verso la perfezione si fa fatica l'uomo li segue instancabile continua a leggere cercando di stare vicino alle donne la madonna piange silenziosamente sotto il suo velo non piangere Maria conforta la madonna prendendole la mano dopo il mondo ti rispetterà sono i primi giorni quelli più penosi oh e qui Maria di Magdala invece che è profondamente sincera la differenza di quel tipo tipo che è Giuda Scariota oh non per me ma per lui se gli dovessi fare del male non me lo perdonerei hai sentito lo scrivo che cosa ha detto io lo pregiudico e dice Maria ma povera figlia ma non sai che queste parole fiscano come tanti serpenti intorno a lui da quando tu ancora non pensavi di venire a lui mi ha detto Simone che lo accusarono di questo fin dall'anno scorso per aver guarito una lebrosa un tempo peccatrice vista nel momento del miracolo e poi ma è più vecchia più di me che gli sono madre ma non sai che dovete fuggire dall'acqua speciosa perché una tua disgraziata sorella era andata là per redimersi Aglae altra grande peccatrice come vuoi che l'accusino che egli è senza peccato con menzogne e in che trovarle nella sua missione fra gli uomini l'atto buono viene agitato come prova di colpa e qualunque cosa facesse mio figlio sarebbe sempre colpa per loro fate la sapienza della Madonna e anche come istruisce Maria di Magda con questa gente qui non c'è niente da fare fa un atto buono lo travisano e glielo sbattono in faccia come colpa dice no ma che cosa si inventa ma se facesse qualche altra cosa no no qualunque cosa facesse sarebbe sempre colpa per loro questi sono i famosi pregiudizi io ne conosco ne so più di qualcosa se una persona c'è un pregiudizio verso qualcuno se come cosa gli fa un miracolo davanti agli occhi ma questo miracolo l'ha fatto per la prevediamo ma c'è un 100% 100% gli hanno detto anche a Gesù no scaccia i demoni ah scaccia i demoni ah perché amico di Beelzebul che scaccia i demoni se si chiudessi in un eremo dice vabbè la madonna sarebbe colpevole di trascurare il popolo di Dio va bene mi stanno a sgonfiare per le cose attivanti alla mia missione facciamo così mi chiudi in un eremo prego faccio benedezza per tutti fino a quando non è l'ora di andarmene in croce così tanto la redenzione la devo compiere no se andasse lì trascura il popolo di Dio scende dal popolo di Dio è colpevole di farlo per loro è sempre colpevole non so se avete mai letto che gira online una cosettina carina sul parroco no se sta in mezzo alla gente è un mondano peccatore se prego troppo che sta in chiesa non sta in mezzo alla gente se è silenzioso non è buono avere rapporti con gli altri se parla è un pettegolo ok e sentite come dice Maddie Magdal e cosa risponde la Madonna sono odiosamente cattivi allora no sono ostinatamente chiusi alla luce ecco la tragedia egli il mio Gesù è l'eterno incompreso e sempre e sempre più lo sarà guardate la sede della sapienza ostinatamente chiusi alla luce noi dobbiamo imparare a discernere questi personaggi perché con questi personaggi qui figli o miei cari non c'è dialogo non c'è possibilità momentaneamente di dialogo c'è solo da pregare Maria di Magdal la dice dinanzi a questa espressione e non ne soffri ma mi sembri tanto serena non ne soffri e mi sembri tanto serena sentite che risponde la Madonna taci è come se il mio cuore fosse fasciato di spine roventi ad ogni respiro io ne sono punta ma che egli non lo sappia mi faccio vedere così per sostenerlo con la mia serenità ma se non lo conforta la sua mamma dove potrà trovare conforto il mio Gesù su quale seno potrà curvare il capo senza trovare ferita o calunnia per farlo è dunque ben giusto che io al di sopra delle spine che già mi lascerano il cuore e delle lacrime che bevono le ore di solitudine posi un morbido manto di amore metta un sorriso a qualunque costo per lasciarlo più quieto più quieto finché finché l'onda dell'odio sarà tale che nulla più gioverà e neanche l'amore della mamma Maria ha due righe di pianto sul volto pallido queste descrizioni questi quadretti sulla figura della madonna io non sono rimango sistematicamente senza parole perché io la prima volta che eri elessio quando ci fu la raccolta di tutti questi nel capolavoro che ha fatto capire la Maria Roschini l'anno scorso è finito con il lungo ciclo di meditazione che adegui su quest'opera la madonna degli iscritti di Maria Valtorta che è il testo del del più grande mariologo del secolo scorso che rimase affolgorato dagli iscritti di Maria Valtorta e ci scrisse i manuali di mariologia viva quindi uno si legge un paragrafo di questo qui ma come come si fa a pensare che questa non sia questa è la madonna al 100% cioè la madonna non può essere nient'altro che questo cioè questo dialogo tra Maria di Magdala e Maria di Nazareth ci mostra dei tratti caratteristici di chi è questa creatura straordinaria le due sorelle la guardano commosse a Maria che piange ma egli a noi che lo amiamo gli apostoli poi dice Marta per consolarla a voi sì agli apostoli ancora molto inferiore al loro compito il mio dolore è più forte perché so che egli non la ignora vedete la madonna anche lei è buonissima no la madre di misericordia ma vedete la sua visione oggettiva delle cose ancora molto inferiori al loro compito ancora molto imperfetti e siccome lei non era una sciocca dice allora il mio dolore era doppio perché lei li vede così figuriamoci come li vede suo figlio e quindi figuriamoci come suo figlio soffre pensa lei nel vedere che anche quelli che gli sono più vicini sono ancora così imperfetti so che egli non l'ignora e sentite allora saprà anche che io lo voglio ubbidire fino all'immolazione se occorre chiede la maddalena la risposta lo sa se è una grande gioia sul suo duro cammino bello eh oh madre e la maddalena prende la mano di maria e la bacia con espansione Tibaria definisce nell'ortaglio del suburbio oltre è la via polverosa che conduce a Cana limitata da un lato da frutteti e dall'altro da una serie di prati e di campi arzi dall'estate Gesù si inoltre nel frutteto e sosta all'ombra delle piante foltero raggiungono le donne e poi il trafilato romano che proprio non ne può più si mette un poco scosto non parla ma guarda mentre riprosiamo prendiamo il cibo dice Gesù la via un pozzo presso un contadino andate a chiedergli acqua vanno Giovanni e il Taddeo tornano con una brocca gocciolante d'acqua seguita dal contadino che offre degli splendidi fichi Dio te ne compensi nella salute e nel raccolto Dio ti protegga sei il maestro vero? lo sono parli qui? non c'è chi lo desidera non c'è chi lo desidera io maestro più dell'acqua che è così buona perché ha sete grida il romano hai sete? tanto ti sono venuto dietro dalla città non mancano enti perie di fontane d'acqua fresca non fraintendermi maestro fare mostra di fraintendermi io ti sono venuto dietro per sentirti parlare ma perché? non so perché come è stato vedendo lei e accenna la maddalena non so qualche cosa che mi ha detto quello ti dirà ciò che ancora non sai e sono venuto date all'uomo acqua e fighi dice Gesù sempre che si ristori il corpo e la mente chiedete per il romano la mente è al ristoro nella verità risponde Gesù con la V maiuscola oh è per quello che ti sono venuto dietro dice il romano ho cercato la verità nello scibile ho trovato la corruzione nelle dottrine anche migliori c'è sempre un che di non buono io mi sono avvilito fino a diventare un nauseato e nauseante uomo senza altro futuro che l'ora che vivo Gesù lo guarda fissamente mentre mangia pane e fighi che gli hanno portato gli apostoli e il pasto è presto finito Gesù rimanendo seduto principia a parlare come se facesse una semplice lezione ai suoi apostoli rimane vicino anche il contadino Gesù parla molti sono quelli che cercano la verità per tutta la vita senza giungere a trovarla sembrano folli che vogliono vedere pur tenendo una cavezza di bronzo sui loro occhi e annaspano cercando convulsamente tanto che sempre più si allontanano dalla verità oppure la nascondono rovesciando su essa cose che la loro ricerca folle smuove e fa precipitare non può che accadere loro così perché cercano laddove la verità non può essere per trovare la verità bisogna unire l'intelletto con l'amore e guardare le cose non solo con occhi sapienti ma anche con occhi buoni perché vale più la bontà della sapienza colui che ama giunge sempre ad avere una traccia verso la verità ho qui Gesù detto fra me e voi sta prendendo un pochino le posizioni della scuola francescana detto fra me e voi la famosa diatriba prima la verità e poi l'amore o l'amore come vi è privilegiata verso la verità e qui Gesù sembra anche vanno ribadito ovviamente il primato della verità no amare non vuol dire godere di una carne per la carne e per la carne quello non è amore quello è sensualità amore è l'affetto da animo ad animo da parte superiore a parte superiore per cui nella compagna non si vede la schiava ma la generatrice dei figli non si solo quello ossia la metà che forma con l'uomo un tutto che è capace di creare una vita più vite ossia la compagna che è madre sorella e figlia dell'uomo che è debole più di un nonato o più forte di un leone a seconda dei casi che come madre sorella figlia va amata con rispetto confidente e protettore ciò che non è quanto io dico non è amore è vizio amici tutte le persone sposate comincino a farsi un po' di esami di coscienza e anche le persone sposabili cos'è un rapporto tra un uomo e una donna sentite che roba non conduce all'alto ma al basso non alla luce ma alle tenebre non alle stelle ma al fango amare la donna per sapere amare il prossimo amare il prossimo per sapere amare Dio ecco trovata la via della verità la verità è qui uomini che la cercate la verità è Dio la chiave per comprendere lo scibile è qui la dottrina che è senza difetto non è che quella di Dio come può l'uomo dare risposta ai suoi perché se non ha Dio che gli risponde chi può svelare i misteri del creato anche solo e semplicemente quelli se non il fattore supremo che ha fatto questo creato questo lo imparino quelli che danno troppa fiducia alla vana scienza che oggi gli scienziati si pensano di essere i risolutori e gli spiegatori di tutti che non spiegano un tubo come comprendere il prodigio vivente che è l'uomo quella perfezione immortale che è l'anima essere in cui si fonde la perfezione animale con quella perfezione immortale che è l'anima per cui dei siamo se abbiamo in noi viva l'anima e per cui ossia libera da quelle colpe che la viverebbero il bruto e che pure l'uomo compie e si vanta di compierle io vi dico le parole di Giobbe o cercatori della verità interroga i giumenti e ti storiranno gli uccelli e te lo indicheranno parla alla terra e ti risponderà ai pesci e te lo faranno sapere si la terra questa terra verdeggiante e fiorita queste frutte che si coffiano sulle piante questi uccelli che prolificano queste correnti di venti che distribuiscono le nubi questo sole che non erra e il suo sorgere da secoli e millenni tutto parla di Dio tutto spiega a Dio tutto svela e disvela è Dio se la scienza non si appoggia su Dio diviene errore che non eleva ma avvilisce il sapere non è corruzione se è religione amici mettiamocene bene in testa queste cose e cerchiamo di crederci chi sa in Dio non chi sa in Dio attenzione all'espressione di Gesù non cade perché sente la sua dignità perché crede nel suo futuro eterno ma bisogna cercare il Dio reale non le fantasime che dei non sono ma solo deliri di uomini ancora avvolti nelle fasce dell'ignoranza spirituale qui parla degli dei pagani ovviamente per cui non c'è ombra di sapienza nelle loro religioni e ombra e ombra di verità nelle loro ferie ogni età è buona per divenire sapienti anzi ancora in Giobbe questo ha detto sul far della sera ti sorgerà una specie di luce meridiana e quando ti crederai finito sorgerai come la stella del mattino sarei pieno di fiducia per la speranza che ti attende basta la buona volontà di trovare la verità e prima o poi essa si lascerà trovare ma una volta che trovata sia guai a chi non la segue imitando i cociuti di Israele che avendo già in mano il filo conduttore per trovare in Dio tutte le cose che di me sono dette nel libro con la L maiuscola se non è la Bibbia non vogliono arrendersi alla verità e la odiano accumulando sul loro interletto e sul loro cuore le macie dell'odio e delle formule e non sanno che per troppo peso la terra si aprirà sotto il loro passo che crede essere di trionfatore e non è che passo di schiavo di formalismi dell'astio degli egoismi ed essi saranno ingoiati precipitando laddove vanno i colpevoli coscienti di un paganesimo più colpevole ancora di quello dei popoli di quello che i popoli di quello che dei popoli si sono dati da se stessi per avere una religione su cui regolare se stessi no che io così come non le spingo vissi pente tra i figli di Israele io non le spingo neppure questi idolatri che credono in ciò che fu loro dato da credere e che dentro nell'interno gemono dateci la verità ho detto ora riposiamo in questo verde se l'uomo lo concede la sera signore io ti lascio ma perché non voglio profanare la scienza che tu mi hai dato partirò questa sera da Tiberiade lascio questa terra mi ritiro con il mio servo sulle coste della Lucania ho là una casa molto mi hai dato di più comprendo che tu non possa dare al vecchio Epicureo pensate Epicureo questo qui era ma in quello che mi hai dato ho già tanto da ricostruire un pensiero e tu prega il tuo Dio per il vecchio Crispo l'unico tuo ascoltatore di Tiberiade prega perché prima della stretta delibitina io possa riudirti e con la capacità che credo poter creare in me sulle tue parole capirti meglio e capire meglio la verità salve maestro e saluta alla Romana ma poi passando presso le donne sedute un po' con disparte si inchina a Maria di Magdala e le dice grazie Maria bene fu che ti conoscessi al tuo vecchio compagno di Festini tu hai dato il tesoro cercato e se giungerò dove già tu sei lo dovrò a te a Dio e se ne va la mantalena si stringe le mani sul cuore con un viso stupito e radioso poi va a ginocchi si trascina davanti a Gesù oh signore signore è dunque vero che io posso portare al bene oh mio signore cioè troppo a bontà e curvandosi col viso fra l'erba bacio e piede a Gesù bagnandole di nuovo col pianto ora riconoscente della grande amorosa di Magdala il tempo della catechesi è finito siamo quasi un'ora amici non commento troppo ci sarebbe da stare un'altra ora ovviamente a commentare le parole che Gesù ha detto bellissime sulla vera dignità umana sull'importanza del cercare la verità sul non chiudersi alla verità conosciuta purtroppo i contemporanei di Gesù hanno fatto un grave peccato contro lo Spirito Santo l'impugnazione della verità conosciuta l'accecamento volontario dell'intelletto che è una colpa assolutamente inaudita da essa preghiamo sempre il Signore che ci tenga lontano perché Gesù dice che la volontà che l'intelletto deve iniziare con l'amore perché perché la volontà c'è il potere di obnuminare l'intelletto di ordinare l'intelletto di chiudersi alla verità come è successo per Lucifero e se questo accade fino a quando c'è questa situazione in atto come per tutti i peccati contro lo Spirito Santo Dio non entra bene amici devo chiudere mi dispiace un po' mi sarei dilungato un altro po' diamo appuntamento alla prossima puntata che Dio vi benedica e la Santa Vergine sempre vi protegga